a cui abbiamo anche ai nostri bambini consegnato questo gioco, questo mazzo di carte, il Memo, un gioco molto semplice, ma che quest'anno è dedicato al nostro territorio. Un gioco chiamato, conosciamo San Cipriano, dove i bambini insieme alle famiglie si potranno dilettare non solo a giocare al Memo, quindi a trovare la carta uguale, ma a riconoscere i luoghi del nostro territorio, dell'intero territorio di San Cipriano. Quindi un gioco da effettuare durante anche le vacanze in atleta in famiglia con gli amici. Questo perché abbiamo voluto regalare come amministrazione ai bambini questo gioco, per legarli ulteriormente al nostro territorio, per radicarli su questo territorio e conoscere appunto posti che semmai molti bambini o delle varie frazioni non conoscono, non ne sono a conoscenza. I bambini di Campigliano molto spesso non conoscono i luoghi di San Cipriano e viceversa. E quelli di San Cipriano non conoscono i luoghi di Campigliano, di Filetta, di Pezzano. E quindi è un modo anche per appunto conoscere questo meraviglioso territorio. Grazie a tutti.